Speriamo che non serva mai, però è un motivo in più per stare tranquilli nei locali di questo tribunale che si sta rinnovando, abbiamo acquisito ulteriori spazi, tante nuove aule per amministrare la giustizia e quindi è giusto che l'aumento dell'afflusso dell'utenza sia compensato da questa strumentazione che può essere utile. Speriamo mai, ribadisco, ma ci dà tranquillità. È un'iniziativa importante perché fa capire che in questo mondo, naturalmente, che è quello giudiziario e non esiste soltanto il contenzioso, ma esiste necessariamente un primario rapporto che deve sussistere tra le parti. In tutto questo, in questo momento particolare, pandemico, dove l'emergenza Covid sicuramente in parte ci ha divisi, ma in parte ci ha anche molto avvicinati, era ovvio che dovevamo pensare e dobbiamo sempre, forse sempre, pensare alla tutela della salute. Quindi abbiamo ipotizzato, naturalmente, di donare un dispositivo defibrillatore. Speriamo che non sia mai necessario e mai utile, ma è importante averlo ed è importante anche creare all'interno del tribunale una formazione rispetto all'uso di questi dispositivi. Oramai gli ambienti giudiziari sono sovraffollati, siamo ancora assembrati nonostante la pandemia, ed è normale che queste condizioni sono tutte condizioni di stress che potrebbero determinare, purtroppo, eventi come quelli che, su rispetto ai quali, potremmo intervenire con un defibrillatore. E questo insiste anche sulla vaccinazione degli abitanti? Sì, insisteremo sulla piano vaccinazione, perlomeno il comparto giustizia paradossalmente escluso soltanto però per l'avvocatura, perché per il resto, come sappiamo bene, anche dalla lettura del piano vaccinazione, diciamo, nazionale, gli avvocati sono stati esclusi, ma credo che il buonsenso farà in modo, naturalmente, di reintrodurli. Non fosse altro perché siamo quelli che sostanzialmente non possiamo lavorare da casa, non possiamo andare in smart working, continuiamo a incontrare i clienti, giriamo tutti gli uffici giudiziari e anche gli uffici connessi a quelli giudiziari. Ragion per cui, a tutela di tutti, non solo dell'avvocatura, è necessario intervenire. Resta inteso che prima vanno sicuramente vaccinate le persone effettivamente fragili e quelli che hanno gravi patologie, perché il problema è che neanche quelli stiamo vaccinando. Quindi priorità sicuramente a loro e poi in una scala di valori rispetto ad una logica che non deve contraddistinguere uno scontro categoriale, ma bensì la logica, dobbiamo dare un nuovo scossone a quello che sta avvenendo nella sanità calabrese, poiché al momento siamo un po' fermi. Speriamo bene per il futuro. L'Associazione Universo Minori oggi ha donato un defibrillatore semi-automatico in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cavanzaro, un dispositivo salvavita importantissimo che speriamo non serve appunto mai, però come abbiamo più volte ribadito nella mattinata sia col Presidente Palermo che col Presidente D'Alerico, anche attiveremo subito dopo Pasqua un corso di BLSD con certificazione. Sarà un corso dove alcuni impiegati del Tribunale saranno coinvolti per poter saper utilizzare questo dispositivo salvavita.